Importante naturalmente la presenza dell'ADICIV, l'associazione che da sempre è dietro a tutte le iniziative, a tutte le manifestazioni, le supporta e le sostiene in ogni momento. Di che cosa si impegna esattamente l'ADICIV e com'è possibile farla conoscere maggiormente a livello cittadino? L'ADICIV è quell'associazione che raccoglie i diabetici nel comprensorio. C'è una sede? C'è una sede in via Isonso numero 3, io sono il presidente, mi onoro di essere il presidente e stiamo lavorando e lavoriamo noi essenzialmente perché la parte scientifica e medica la lasciamo ai medici, quindi non abbiamo né la presunzione di capirci qualcosa, cioè ci capiamo perché siamo dei malati diabetici e cerchiamo di organizzare iniziative durante il corso dell'anno. Quindi noi vorremmo proprio per gli stili di vita, quindi dire mangiare bene eccetera eccetera, ci abbiamo in programma e abbiamo in programma di fare dei corsi. Anno nuovo ormai. Anno nuovo sulla sana alimentazione. Per quanto riguarda l'attività fisica abbiamo in mente di fare, mensilmente, ma mensilmente non serve perché il diabetico deve camminare almeno mezz'ora al giorno, però mensilmente ha lo scopo di far socializzare i diabetici, di farli conoscere e magari di darsi l'appuntamento per il giorno dopo, di fare mensilmente la passeggiata, la camminata per la salute. È una passeggiata di tre chilometri che noi avremo, se riusciamo, e dobbiamo riuscirci perché il mio impegno per il prossimo anno sarà quello, cominciare da marzo, quando il tempo ce lo consentirà. Cominciare a formare dei gruppi che hanno il dubbio scopo di socializzare ma anche lavorare per curare la malattia. E farla non solo per le vie del centro, come l'abbiamo fatta già un paio di volte, ma andare nei quartieri.